La situazione è delicata, è davvero difficile, i numeri sono oggettivamente andati fuori controllo, è una situazione che non è più gestibile, adesso occorre intervenire, occorre anche un atto di coraggio da parte della politica, bisogna prendersi le proprie responsabilità tutti quanti e cercare di porre argine a questa situazione che ormai è diventata davvero molto difficoltosa, rimanere su in montagna per i nostri malghesi. L'atto di coraggio che il presidente di Coldiretti Vicenza Pietro Guderzo chiede alla politica è relativo alla questione lupi, una presenza sempre più pesante sulle nostre montagne e non solo, dati gli ultimi avvistamenti anche in zona pianeggiante. I malghesi non ce la fanno più, tanti stanno chiudendo baracche burattini dopo lo stilicidio di perte e di capi dilaniati dal predatore. Da una parte c'è da fare un intervento anche a livello europeo per declassare il lupo, ovviamente poi però la regione in questi casi di eccezionalità deve agire in deroga e questo è quello che chiediamo noi. Non possiamo permetterci che le nostre montagne, le nostre colline diventino una sorta di Jurassic Park ad appannaggio di qualche ideologia, anzi quello che noi vogliamo anche rimarcare anche come Coldiretti è che questo problema comunque è presente da qualche anno e magari con un po' di buon senso si poteva intervenire anche inizialmente, quindi si sarebbero evitate tantissime perdite. Tutto quello che era possibile fare da parte dei nostri elevatori in montagna come difese passive è stato fatto, sono stati provati i dissuasori e sono risultati inefficaci. I recinti, sappiamo che il lupo è un animale comunque intelligente e ha capito che basta girare attorno al recinto e spaventare il branco di vacca, il branco di vacca che sfonda il recinto e poi fa quello che vuole, dove può saltare? Salta dentro, quindi adesso queste misure ormai lo sappiamo, si presupponeva anche prima ma giustamente ci abbiamo provato, adesso bisogna trovare alternative. Far morire l'agricoltore o far morire l'attività agricola, non uccidi solo quello, ma uccidi anche il servizio che l'agricoltore dà al territorio, nel senso che molti malghiesi puliscono i nostri pratti, tagliano le ortiche, le malerbe, tengono in ordine i boschi e questo non ci si rende conto che è l'importanza che ha.